Voi da dove venite? Fabriano Com'è questa esperienza? Bella? Sì, è un peccato il tempo, è la terza, quarta volta che veniamo, abbiamo peccato sempre il sole, quest'anno purtroppo la nebbia ma è sempre bellissimo il carnevale, bellissimi i carri, un'esperienza coinvolgente. Io sono il cacciatore, c'è Cappuccetto Rosso, la nonna, c'era anche il lupo ma ha già tolto il costume. E come vi sembra questa esperienza? L'esperienza dolcissima, il carnevale più bello d'Italia, è la quarta volta che veniamo e siamo sempre gioiosi di essere qua. Bene, allora buon carnevale, buon divertimento. Grazie, alla prossima. Le caramelle avete preso con questo telo? Eh, sono pieni. Fate vedere, fate vedere le caramelle. Quindi è stata una buona soluzione? Sì, sì. Non mi siete mascherati? I vostri bambini sono mascherati. Sì, sì, lei è da Frozen. E l'altro bambino? Da calciatori. Avete preso tante caramelle oggi? Tantissime, sì. Tu da che cosa ti sei vestita? Da mini. Tu invece? Da cheerleader. Vi siete divertite oggi? Sì. Molto, molto. Stamattina siete state anche al carnevale dei bambini? Sì. Siete vestite anche stamattina? Sì, sì. Allora fate un saluto a tutti i bambini di Fano TV. Ciao! Lei sta combattendo oggi? Io combatto sempre. Bene, bisogna combattere nella vita anche al carnevale di Fano. Certo. Con chi è oggi? No, io sono da solo, ho costruito questo cosplay e volevo provare un attimo l'effetto che aveva sulla chiesa. E dove viene lei di Fano? No, sono di chiesa. Ragazze, voi siete 007 o? Sì. 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 Ascolta, ma come vi è venuta questa idea? È un costume bello, comunque originale ed è stiloso. Allora, buon carnevale a tutti e buon divertimento. Oh bene, grazie. Potete dire una cosa? Venite tutti al carnevale di Fano! Tu oggi sei visitato da Babbo Natale. Esatto, sì. Come mai? Eh, perché Babbo Natale, mi piaceva l'idea, Babbo Natale e Babbo Carnevale. Bene, vi siete divertiti? Molto, molto. È la prima volta che salite sul panco? Eh, no, voglia. Ormai siamo di famiglia. Bene, quindi è sempre bello stare sul panco. Avete tirato le caramelle? Caspita, sì, sì. Le abbiamo anche prese. Quindi è stato un pomeriggio fruttuoso, diciamo? Molto, molto, sicuramente. Siamo una ventina, ufficialmente, anche se qualcuno si è intruffolato. Facciamo parte di quella categoria che si diverte senza alcol, ok? Quindi non guidiamo, non beviamo, non facciamo niente, ci divertiamo e basta. Carnevale 2024, bellissimo, tanta gente, una figata. Venite anche la prossima domenica. Che recente è? Questo è tè distillato. Si beve poco, ci si diverte tanto, mi raccomando. Perché ci si diverte anche senza alcol, senza eccessi. Senza alcol, senza alcol, ci divertiamo senza alcol. Allora, il tema della nostra è la violenza sulle donne e abbiamo avuto impersonificarlo in modo tris, ma così per far ridere un pochino e comunque per far sensibilizzare il tema, insomma. Quanti siete oggi? Siamo circa una trentina, tutti quanti fanesi, ma così tutti quanti è una committiva di amici. Il tema della nostra sfilata è Alice nel Paese delle Meraviglie. Quanti siete? Siamo una quindicina, una ventina, però siamo cariche a molla. Iniziano al fia pallone, Fano! Ma voi le tirate anche le caramelle? Sì, le tiriamo anche e soprattutto i bambini, perché vogliono le caramelle e magari non gli arrivano dai carri, quindi è giusto tirare anche agli anni. In quanti siete voi oggi? Allora, siamo in trenta, siamo la maggior parte di Fano. Poi abbiamo persone che vengono da Riccione, da Urbania, da Borgo Pace e addirittura da Città di Castello. Quindi siamo un po' interregionali. Ecco, ma voi da che cosa siete vestiti? Da note musicali? Sì, visto che il tema era fuori dalle righe, fuori dagli spazi, noi ci siamo vestiti da Vulo un note, quindi le note un po' Vulone. Quante caramelle hai preso oggi? Eh, tante! Una quintalata? Sì! Sei contento? Sei contento? Non li vuole fare vedere? Abbiamo preso due panettoni e un quintalato di caramelle. Sei contento del bottino di oggi, quindi? Sì! Anche se io non le mangio, c'è un traguardo. Lui preferisce le pizze. La prossima anno, se si può, di tirare le pizze. Ecco, preferisce il salato. Il salato. Allora, buon divertimento, buon caravale. Piedine e panina al presciutto. 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 Piedine e panina al presciutto.